Ci sono 35 capi di Stato e di Governo, più di 300 politici di oltre 90 nazioni nella nuova inchiesta giornalistica internazionale che svella le ricchezze nascoste nei paradisi fiscali da migliaia di potenti di tutto il mondo. Le nuove carte chiamate Pandora Papers documentano una miriade di affari ricchissimi con i nomi dei beneficiari schermati dal velo delle società offshore. Tra questi Tony Blair, il re di Giordania, presidente in carica di paesi come Ucraina, Kenya, Cile e Ecuador, ma anche celebrità dello sport, della moda e dello spettacolo criminali e boss mafiosi anche italiani.